Benvenuti a tutti nel canale Ippocamper, oggi vi parlo di disabilità. Oggi vi faccio un video un po' particolare, un po' diverso dal solito. Allora vi voglio semplicemente presentare un lavoro che abbiamo fatto su questo veicolo qua, si tratta di un lavoro relativo a una trasformazione principalmente, abbiamo comprato il microfono perché così almeno non mi non mi dite che si sente male, quindi il lavoro che è stato effettuato su questo camper è stata sostanzialmente fatta una trasformazione, abbiamo trasformato questo Baron 22, un camper sette posti, poi ve lo faccio vedere un pochino meglio, con una grande dinette, due letti posteriori, quindi un set posti grandi di generose dimensioni, lo abbiamo trasformato, lo abbiamo reso accessibile anche ai disabili e come abbiamo fatto ve lo faccio vedere, vi farò vedere tutte le modifiche che abbiamo fatto. Vediamo quali sono state le modifiche e come abbiamo effettuato questo adattamento. Allora innanzitutto noi abbiamo come qualcuno, come molti di voi sicuramente sapranno, brevettato tanto tempo fa, un dispositivo che consente l'ingresso a bordo da parte del disabile mediante un binario che viene installato sul soffitto. Come vedete qui abbiamo proprio questo binario che è stato applicato sul soffitto, il percorso del binario è in funzione delle esigenze della persona, all'interno del binario possono essere presente uno o più scambi che permettono praticamente l'accesso nei vari vani del veicolo. Il dispositivo si chiama Easy Rail, è stato presentato diverse volte a Mondo Natura, ogni anno siamo presenti a Mondo Natura, a quella che era a Mondo Natura adesso il salone del camper, con dei veicoli allestiti e abbiamo allestito qualsiasi tipo di veicolo, sostanzialmente dai mansardati ai semi integrali ai motorhome, quest'anno avevamo un motorhome presente. All'interno, come competenza di informazione, vi dico all'interno del veicolo c'è un sollevatore come questo, perché l'accesso a bordo del veicolo viene fatto tramite appunto un'imbragatura, cioè tramite questo sollevatore che viene collegato, su cui su questa barra viene collegata un'imbragatura, la persona viene imbragata e viene tirata su tramite questo dispositivo. Quindi vi faccio vedere, il dispositivo vedete è un sollevatore che ci consente di sollevare circa fino a 210 kg e poi una volta sollevata praticamente la persona può essere tranquillamente presa, spostata e in funzione del percorso che si è scelto per rendere accessibile del veicolo, può logicamente essere trasportata da una parte all'altra e quindi occupare una o più posizioni. Lo scambio è molto semplice e ci consente l'accesso per esempio come in questo caso al bagno, adesso vi apro la porta, vi faccio vedere, questo è il bagno e diciamo mediante un semplice pulsante noi possiamo praticamente spostare il binario e fare in modo che il sollevatore possa entrare direttamente nei vani che crediamo sia che riteniamo siano utili alla persona interessata. Vediamo quali sono tra le altre cose tutte le modifiche che abbiamo fatto su questo veicolo perché ovviamente il veicolo adesso in questo momento sembra originale ma abbiamo modificato alcune cosine per permettere alla persona un'accessibilità migliore di usufruire del veicolo in maniera un po' più semplice. Come vedete dietro di me c'è il binario e nella parte posteriore c'era la necessità dalla parte dell'utente di utilizzare il letto inferiore e per fare questo logicamente serviva la possibilità di inserire la persona sotto per fare questo abbiamo creato questa apertura e con questi blocchi abbiamo quindi reso il letto inferiore sollevabile e abbiamo consentito di avere moltissimo spazio per poter postare la persona e poggiarla direttamente nel letto inferiore quindi questa è stata una delle modifiche che abbiamo fatto che ci consente di migliorare sicuramente la proibibilità del veicolo. Andiamo davanti vi faccio vedere di che come abbiamo lavorato nella parte anteriore. Per quanto riguarda la parte anteriore invece il lavoro che è stato fatto è stato quello chiaramente di far arrivare la persona fino davanti logicamente la persona aveva la necessità di occupare il sedile passeggero e quindi quello che è stato fatto è per permettere l'accesso al sedile passeggero che non è una cosa semplicissima in quanto con la manzarda così bassa infilarsi sotto non è assolutamente semplice. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo reso la manzarda praticamente sollevabile quindi abbiamo tagliato la manzarda e l'abbiamo trasformata in questa maniera. Abbiamo tagliato la manzarda e abbiamo creato praticamente tutta questa zona però rimaneva il problema della della cuscineria e di questa spalletta che ci dava fastidio e quindi con una semplice con un semplice taglio abbiamo eliminato la parte superiore la parte superiore eccolo qua abbiamo inserito una piastra girevole all'interno sotto interposto tra il sedile e il castello del sedile e praticamente questo è diventato tutto lo spazio disponibile per l'accessibilità eccolo qua. Quindi in questa maniera praticamente si è creata una zona semplicemente accessibile da parte di tutti è assolutamente ripristinabile perché come avete visto il veicolo sembra assolutamente normale quindi adesso rimettiamo a posto e facciamo in modo che la persona possa andar via tranquillo e ligure e quindi ha molto molto strada da fare mettiamo dentro così eccoci qua quindi abbiamo concluso vi ho fatto vedere questa semplice semplice relativamente semplice perché comunque il dispositivo è un dispositivo importante è che consente di essere installato su qualsiasi veicolo ha tante caratteristiche ha tanti vantaggi permette di rendere accessibile qualsiasi veicolo e quindi essere adattato ai disabili cosa per noi molto importante quasi non dico che una missione però insomma ci sia ci contiamo molto quindi niente non credo di dovervi dire nient'altro se il video vi è piaciuto comunque avete ritenuto interessante questo video mettete un like iscrivetevi al canale e condividete anche perché questo è un accessorio tra virgolette i sireni dispositivo che già esiste da un po' di tempo ma cerchiamo di farlo conoscere un po' in giro un po' più a chi ne ha bisogno quindi dai ci vediamo alla prossima